Devono capire che non sono loro sul piedistando, nemmeno io, ma che i miei diritti io li voglio. Domenico Scatraglia, un ultraottantenne disabile al 100% riconosciuto dall'Unità Operativa di Medicina Legale della Aslo Toscana Sud-Est nel 2007, risiede nel comune di Arezzo con la moglie, anche lei con importanti problemi di salute. Dopo un lungo ricovero in ospedale, l'ottantenne ha effettuato un primo ciclo di fisioterapie nella speranza di recuperare forza nelle gambe e quindi autonomia. Ha bisogno di queste fisioterapie perché... Per rinforzare questa gamba è ripetere quel senso di equilibrio che mi è venuto a mancare, perché la sinistra è buona, ma è la destra che ha perso completamente la fisionomia del muscolo, perché è un muscolo poliomilitico e se non viene allenato non viene... ma se io non mi posso allenare come faccio? Se vuol continuare a farle, le spese di trasporto sono a suo carico. A me mi ha detto, ma i viaggi, i viaggi se li paga? Io mi pago i viaggi. No, domando questo, io poi dopo non domando altro. Se questa è la nostra sanità, se sono verso i più fragili o meno. Domenico ha un ISEI che supera di poco i 16.000 euro l'anno e quindi, secondo le nuove disposizioni della regione toscana, non rientra tra coloro la soglia è di poco più di 9.000 euro che hanno diritto al trasporto gratuito. Lui contesta proprio la regola nella quale sono incappati migliaia di cittadini nella sua stessa condizione. Di sicuro però non è una condizione di chi si piange addosso, sarei disposto, ci dice, a raggiungere autonomamente il luogo delle terapie, poi però precisa. Una volta che sono lì, chi mi aiuta a scendere la carrozzina? E dopo che mi scendi, se non c'ho la carrozzina qui? Io non voglio commuovere la gente, ma la gente deve capire che questa... Dici hanno tagliato le cose, tagliato, ma io ho un diritto.